Si è svolta a Città di Castello la giornata artigiani in piazza dai convegni cultura alla valorizzazione dell'artigianato locale organizzata da Un Punto Mabrio Previocritico con il patrocinio del comune di Città di Castello. L'iniziativa che come dice il titolo si ispira ai convegni cultura ideati e realizzati dal professor Mario Pianesi ideatore fondatore e presidente dell'associazione internazionale Un Punto Macrobiotico ha visto oltre 40 artigiani dimostrare la realtà del loro lavoro. In una piazza ancora parzialmente gravata dai lavori di ristrutturazione oltre un migliaio di persone ha assistito alla scultura del legno, la lavorazione della ceramica, gli intrecci in vimini e l'antica arte dell'impagliatura delle sedie. Erano presenti artigiani di tutta la vallata dal produttore di candele in cera d'api al macramè, dalla tessitura con telaio artigianale al giocattolaio, dai braccialetti in pelle alle penne di legno per citarne solo alcuni. Scultori in pietra, abilissimi realizzatori di modelli in legno e in pietra e ceramisti hanno tratto per tutta la giornata adulti e bambini. In un angolo della piazza c'è stato spazio anche per un fabbro che con la propria forgia accesa realizzava oggetti impensabili in ferro ed è stato anche retto un piccolo muro con la tecnica delle balle in paglia e terra cruda. Sempre sulla scia dei convegni dati dal professor Pianesi, pluriencomiato per il modello di sviluppo e sostenibilità che da decenni sta proponendo in tutto il mondo, la giornata è stata aperta da un incontro tra gli artigiani e la popolazione in una gremitissima sala gruppi messa a disposizione dal comune Tifernate. Una giornata vivace, molto apprezzata dai cittadini e dagli stessi artigiani, dove si sono potuti assaggiare dolci e salati, prodotti con pasta madre e cotti in forno a legna, rallegrata dai bambini che, nei laboratori di modellizzazione dell'argilla, realizzazione di braccialetti in pelle, stampa con moduli in legno e realizzazione di piccoli giocattoli, hanno colto più di qualche sorriso ai presenti, riportandosi a casa le proprie creazioni artigianali.